E ciao ragazzi e bentornati in un nuovo episodio di recensione più doppiaggio quest'oggi parleremo di Deadpool e Wolverine tenetevi forte perché ci sarà un po' da parlare come prima cosa ci tengo a dirvi che se vi piace la merda è normale che poi vi arriva la merda perché? perché ragazzi il film in sé per sé non è orribile assolutamente vi farà fare sicuramente quattro risate non sto dicendo di no però si vede lontano o meglio che è fatto col culo e sinceramente se continuate a idolatrarlo perché ho conosciuto anche un sacco di persone che io reputo semplice che non è che sfoggia queste grandi critiche cinematografiche ok per carità che però nonostante tutto siccome gli ha fatto ridere quelle due battute e allora lo veramente lo innalza a capolavoro della madonna e tutte queste cose qua oltre all'abuso della parola capolavoro che ci farò un video prima o poi mortacci vostra ma soprattutto perché? perché? cioè il bello è che poi ci ho pure parlato con queste persone che sono andate anche a rivederlo al cinema e lo sanno lo sanno che non è un film così cioè non è a livello degli altri due Deadpool per esempio lo capiscono questo perlomeno nonostante tutto però meme ovunque cioè se innalzate la merda non vi potete lamentare se poi arriva solo la merda perché poi siete gli stessi che se lamentano di tutto il resto dell'universo Marvel che fa cacare perché perché probabilmente siete voi che avete alimentato questa cacata perché ok questo magari questo film vi può aver fatto ridere ha fatto ridere anche a me ma dovete avere un occhio critico altrimenti poi vi state zitti e vi magnate la merda che vi danno comunque partiamo direttamente con la trama allora la trama perché c'è in questo film non se sa perché l'unica cosa che fa è cercare di annoiarti nei momenti tra una battuta e l'altra tant'è che appunto la maggior parte delle persone se tu gli dici questa cosa ti dice eh me ma mica lo puoi guardarpa la trama oppure che ne so vabbè ma tu qua cosa ne devi guardar che cazzo vuol dire ragazzi il film è nell'insieme non è che cioè la trama comunque c'è cioè io la devo giudicare la trama come qualsiasi altra persona cioè tu non è che devi andare lì e dici ok è un film stupido ci sarà una trama sicuramente più semplice oppure più stupida per carità ma non di merda con buchi ovunque è diversa la cosa ragazzi e ripeto non mi potete dire di non guardarla perché fa parte dell'insieme tu puoi anche decidere di non metterla alla trama mi fai un film di due ore in cui Deadpool e Wolverine scopano si infirsano e dicono cazzate fai contenti tutti certo comunque ci vorrebbe un po' di trama in un film che si rispecchi anche perché è uno degli obiettivi che metto quando giudico qualcosa però capisco pure che ci può stare una trama un po' più semplice e ok ma non così di merda cioè ragazzi Deadpool che smette di fare Deadpool è questo il punto ok le battutine che vi piacciono le fa lo stesso ma un Deadpool che è proprio l'egoismo che come trama principale ha il fatto che deve diventare un altruista importante in poche parole per lo meno per almeno da ragazza è una grandissima stronzata c'erano mille altri modi per fare un terzo film di Deadpool veramente carino e divertente alla Deadpool veramente ma soprattutto pure per prendere per il culo la Marvel e salvare qualcosina avrebbe potuto salvare l'universo Marvel certo che avrebbe potuto salvarlo c'è proprio un fumetto che parla di Deadpool che distrugge il multiverso te lo togliere dalle palle e finalmente risolvevi qualche problema di sta cacata di multiverso che avete buttato lì ogni due secondi solamente per giustificare le vostre trame di merda come questa comunque andiamo avanti niente gli dicono che praticamente l'ancora del perché non mi ricordo se poi sta cosa esiste veramente già da prima ma non mi pare di averla sentita può essere che mi sono perso qualcosa perché gli ultimi film Marvel col cazzo che mi vedo e non mi vedrò mai questo era l'ultimo che mi dava leggermente qualche speranza infatti non guarderò mai più nulla di questa roba comunque l'ancora del multiverso insomma ogni universo c'ha la sua ancora per farlo rimanere stabile se no poi dopo un po' scoppia che cazzo ne sono quasi altro genere sto tizio della polizia del multiverso lì del Loki va da Deadpool e gli dice guarda siccome noi le regole ce le inventamo io voglio distruggere subito l'universo tuo perché sì perché me va però a te a te te salvamo perché me stai simpatico così perché infatti le regole si inventano poi cioè voglio dire se tutti gli altri appena scoreggiano fuori da un posto e distruggono universi paralleli come niente lui dicono ok tu me stai simpatico quindi scialla poi puoi andare in un altro universo e piangere per Thor vabbè comunque ok e lui praticamente fa vabbè vaffanculo no io voglio salvare il mio universo con la gente che amo tutte c'è bla 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 quindi vado a cercare un altro Logan perché è Logan l'ancora del cazzo che è morta naturalmente tu che fai un'ancora che deve tenere un universo cioè come la tieni la butti in un altro universo e non un altro universo dove ci sono gattini micini no in quello lì di Logan appunto dove tecnicamente nel fumetto ci stanno T-Rex occhio di falco cieco e chi più ne ha più ne metta in mezzo apocalittico dove uccidono tutti quelli come lui cioè proprio dove un mondo che è razzista contro i mutanti tu ci metti da tua ancora mutante ed è sicuramente una genialata comunque andiamo avanti eccetera eccetera alla fine si mettono d'accordo per salvare tra virgolette l'universo di Wade ci riescono e non sto nemmeno a spiegarvi tutte le stronzate assurde perché non nemmeno fanno parte diciamo della trama anche perché la trama è proprio cose random andiamo a uccidere si ah zack zack battutina ok andiamo a uccidere quegli altri si zack zack battutina scena figa e poi alla fine siamo buoni quindi la polizia del multiverso fa finta che non è successo niente e dice ok dai non lo distruggiamo questo universo che bello fine trama 2 andato a fanculo personaggi allora io sinceramente odio questo film per un motivo ma avete rovinato uno dei pochi personaggi che ci aveva avuto un finale veramente carino perché Logan è carino cioè è un bel film comunque è un bel finale e negli ultimi tempi trovare un bel finale anzi anche solo trovare un finale perché non finiscono più ci fanno sequel su sequel su sequel vabbè comunque per un personaggio è veramente difficile lui ce l'aveva e mi avete fatto sta cagata perché perché io Jackman tutti quanti quelli che dicono che ha fatto una prova per Wolverine probabilmente ok si è sicuramente allenato bene per i suoi begli addominali che vi hanno fatto eccitare assolutamente però ragazzi si vede lontano meglio che per tutto il film lui sta facendo questo film solamente perché l'ha promesso al nostro amichetto Ryan Reynolds ogni due secondi si vede sta lì proprio scazzato e lo vedi lo vedi proprio lontano meglio perché so così svegli poi per fartelo notare che se avete visto sui titoli di coda ci sta lui mentre fa Wolverine tra i primi cazzo di X-Men in cui sorride si diverte mangia stacco tutti fa le cazzate le battute e vedi come hanno fatto questo film ci sta lui che si scassa le palle si ogni tanto gli scappa un sorrisino perché c'è sta Ryan Reynolds ma sta lì proprio con i coglioni per terra avete rovinato veramente un attore e un personaggio con questa cagata e per di più mi dovete spiegare perché cazzo un Logan che non si apre manco con se stesso veramente dovrebbe dire a una tizia che non conosce perché X-23 non è quella del suo universo che non si sa manco perché sta lì però vabbè tutta la sua cazzo di vita semplicemente perché gliel'ha chiesto davanti a un falò in una sera così vabbè comunque e questo è Wolverine senza contare tutte le volte in cui sicuramente hanno fatto una marea di cose plasticose in CGI veramente di merda comunque passiamo a Deadpool ovviamente Deadpool pure qui ok un po' meno rovinato perché sicuramente è sempre il suo ah ah battute gay ovunque chi mi dice che ecco questa è una cosa che veramente odio ragazzi davvero mi venite a dire che è un bel film perché ci sono un sacco di battute gay e l'avete notate cioè ok sono divertenti le battute gay assolutamente ma non dovrebbe essere una delle cose principali per giudicare un bel film cioè davvero vabbè comunque andiamo avanti e il nostro Deadpool comunque si rovina dal punto di vista sicuramente di coerenza però è Deadpool te lo puoi aspettare ci sta quindi a dire la verità lui è quello che forse si salva un po' di più assolutamente poi che altro posso dire molto felice di alcuni cameo molto meno per altri non sto qui a giudicarne tantissimi dirò solamente la torcia umana veramente divertente soprattutto anche la scena post credit quello alzo le mani e poi vabbè la sorella di Xavier è un personaggio inutile non voi sapete come si chiama? no sorella di Xavier si chiama perché chi cazzo si ricorda come si chiama sta deficiente nessuno ne frega una sega comunque chi altro posso dire praticamente come personaggi se non ah si questa è una cosa che ho fatto veramente dire ma che cazzata è tutti i Deadpool degli altri universi ragazzi ragazzi allora ora spiegatemi un attimo per carità ci potevano stare lì perché dici i Deadpool sono talmente scassa coglioni che sono andati un bel po' a finire in quel posto tipo del vuoto ci sta ok ma piccola domandina mi spiegate come cioè già uno uno è imprevedibile di Deadpool mi spiegate come sia possibile che tipo un centinaio di Deadpool veramente abbia giurato fedeltà sta pelata de merda tranquillamente e combattono rischiando la loro vita eppure di più per questa per quale cazzo di motivo dovrebbe essere così la cosa spiegatevelo no vi prego non capisco ma per carità arriva l'amichetto suo e quindi tutti quanti fanno sì tutti quanti è mia mod personaggi quattro in questo periodo in questo periodo che è il periodo peggiore secondo me della Marvel e quindi hanno sprecato appunto un film che poteva essere veramente top con una caccatata del genere e niente e che dire sicuramente l'obiettivo è riuscito perché tutti quanti appunto ne parlano la Disney si sta a fare una barca di sordi con cui potrà propinarci altre Miss Marvel o cazzate del genere quindi quando usciranno ragazzi guardatevene perché questo è il risultato di quello che avete fatto grazie a questo film che comunque per carità non vi sto a dare una colpa se siete andati a vederlo al cinema anche io l'ho fatto non vi sto a dare una colpa se vi è piaciuto vi sto a dare una colpa se lo idolatrate perché ragazzi non è un film da idolatrare non è un film da innalzare così tanto da parlare cioè ragazzi esempio già adesso non ne sento praticamente più parlare ci avete fatto caso? è durata una settimana la hype cioè non ok qualche meme ogni tanto ci sta però anche tra gli amici tra la gente che passa per strada cioè non è un film ma io già pure un'ora dopo che ero uscito dal cinema mi ero già rotto il cazzo di parlarne mi ero messo a parlare qualcos'altro perché c'è poco da parlarci è più tipo uno stand up comedy sto film cioè tu vai lì ti fai due risate e poi non ti ha lasciato un cazzo però vabbè che dire come diciamo dai obiettivo dò in 6 media 4 assolutamente e ci vediamo al prossimo video che sarà il doppiaggio di sta roba ci vediamo al prossimo video Grazie a tutti.